Buongiorno, sono io, sono questi qua, 6 metri da quando arriviamo, sono qui sono qui, sono qui, sono qui, sono qui. Sì, sono qui, sono qui. Sì, sono qui, sono qui, sono qui, sono qui. Sì, sono qui, sono qui. Sì, sono qui. Sì, abbiamo la videocamera. Sì, sono qui. Sì, sono qui. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni. Vieni, 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 vieni. Grazie a tutti. Non mi stoppala il volo! Non mi stoppala il volo! Non mi stoppala il volo! posizioni e otto cimane azione il montone contro chi c'è? è immediato sai, dov'è questa dentro procura che ha fatto una foto profondità profondità non ha devo vincere non Augenra si 16, Bischi, Ferdin, Conte, 24, Morano, allenatore Edoardo Reiano, Cisar Pina Piazzi che ho aperto la formazione di Vicenza, da Comune e Via Tende in corso di Porto Vittoria, Conte e Tumana, Pinter, di Consiglazione e Vittoria e NB, Lorenzo Camper, I.R., a Dolore Gerardo, Cimic, Westville, Con il numero 4 Gonzaletti, Winter, Sousa, Silvestre, Ventola, Donato, Inquanto, con il numero del Corriero, Ventuno Quirlo, allenatore Luciano Castellini. Con il numero 4 Gonzalo, Ventuno Quirlo, Ventuno Quirlo, allenatore Luciano Castellini, Ventuno Quirlo, 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 Vent Saluta, saluta. Saluta, saluta. Saluta, saluta.